Buongiorno e bentornati a IULO, l'arte per l'arte. Oggi siamo al nostro terzo incontro riguardante l'arte greca e in particolare avevamo visto nel nostro scorso appuntamento che Policleto raggiunge la sua idea di uomo ideale rappresentando una statua che racchiudeva in sé un racconto e venne chiamata addirittura Canone questa statua come erano i suoi scritti, i suoi scritti Canon dei quali si sono ritrovate solo più tre pagine una riguardante la modularità, l'altra la proporzione che deriva proprio grazie all'uso di un modulo che nel caso preciso dell'uomo abbiamo visto con Policleto riguarda la testa e vedremo poi col tempio che riguarderà il diametro al limoscapo della colonna. In particolare però Policleto ritrovò l'idealità in una sorta quasi di media che lui fece misurando la natura, quindi misurando in particolare la figura dell'uomo e rapportando tutte le tipologie di testa, tutte le tipologie di spalle, di braccia, di gambe e cercando di ritrovare come sunto di questa ricerca l'uomo più probabile, l'uomo più plausibile. Questa può essere intesa la bellezza, diciamo, ideale per Policleto in quanto questa ricerca parte proprio dall'osservazione della natura quindi frantuma un po' le regole fino a quel momento e parte proprio da quella che è l'origine della creazione delle figure naturali come proprio sono quelle della donna e dell'uomo. Ecco, questo autore però avevamo visto che inserisce soprattutto un concetto cioè quello dell'equilibrio tra la stasi e il movimento cioè si abbattono tutte quelle barriere che fino a quel momento erano ancora presenti e si raggiunge l'acme superando lo stile severo portandolo diciamo alle estreme conseguenze si entra nella classicità ma della classicità fa anche parte l'autore di cui trattiamo oggi che si chiama Fidia un grandissimo maestro che è contemporaneo a Policleto quindi noi non dobbiamo vedere Fidia come una successiva evoluzione della classicità rispetto a Policleto assolutamente, sono addirittura rivali Fidia per darvi un'idea è quello del fregio del Partenone è quello delle statue crisolefantine stiamo parlando in particolare di Atena Partenos questa statua di 15 metri di altezza che era inserita all'interno del Partenone o dello Zeus ad Olimpia l'una di 15 metri l'altro di 12 metri ecco andate purtroppo perse, distrutte ecco perché criso elefantine perché un uso che faceva Fidia del materiale era quello di utilizzare sia avorio che oro per le parti in particolare dell'incarnato della carnagione si utilizzava l'avorio per quanto riguarda invece le parti del vestiario si utilizzava l'oro ecco Fidia però non era solo un creatore di statue in base al materiale che utilizzava ma portò veramente la classicità alla massima espressione della bellezza ideale noi prendiamo oggi una statua come esempio che è l'Apollo Parnopio Parnopes vuol proprio dire cavalletta quindi questo Apollo caccia le cavallette voi sapete che Apollo era un dio che veniva tenuto molto in considerazione e cacciare le cavallette significava comunque salvare l'uomo da una piaga si fa risalire l'immagine di questo Apollo all'Apollo di Cassel dove in particolare vediamo sarebbe stato un bronzo dorato e avrebbe trattenuto da una mano una cavalletta e dall'altra l'arco ecco cosa ha questo Apollo di così classico di così evoluto Fidia a differenza di Policleto che porta come dicevo prima alle estreme conseguenze le regole dello stile severo inventando la norma e la regola racchiusa nel canone lui rappresenta con assoluta libertà si distacca completamente dalla regola e quasi fa io oserei usare questo termine un'inversione di marcia ripassando da un'immagine che assomiglia arcaica in quanto immutata cioè un'immagine che più che un uomo assomiglia a un Dio e o meglio può essere un uomo che diviene divinizzato cioè arriva a dei livelli di bellezza tale che non può che essere un Dio vedete l'evoluzione della statuaria nella Grecia che più che partire dal voler rappresentare un Dio si parte da voler perfezionare la figura umana al punto che assomiglia a un Dio non può che essere un Dio diventa difficile nella statuaria greca sapere se ci si trova di fronte a un uomo se ci si trova davanti a un mito o se ci si trova di fronte a un Dio perché sempre dall'uomo si parte vedremo che anche nel Tempio sarà così per dimensionare il Tempio ecco questa statua è una statua che ha uno sguardo immutato uno sguardo autorevole questi occhi fissi in qualche modo espressivi significativi ma di un'espressione che è un po' distaccata proprio come un Dio che più che provare emozioni osserva il comportamento degli uomini ecco poi abbiamo queste sopracciglia diritte che danno proprio valore a questa caratteristica dello sguardo questa bocca perfetta contornata questo naso preciso è a un certo punto questo mento prorompente che dà assolutamente forza autorevolezza a tutta la statua vedete anche i capelli voi sapete che Apollo era noto per avere questi capelli neri lunghi con riflessi bluastri che piaceva molto alle ninfe piaceva molto alle dee ecco Apollo in questo caso vedete e anche i capelli sono contenuti in questa immagine che non può essere scalfita da nulla neanche da un capello fuori posto scendendo vediamo un corpo un corpo che ha spalle molto ampie che ha un busto molto largo che ha una vita stretta e che scende quasi affusolato grazie a queste gambe perfette e dimensionate con questi piedi che quasi sembra che tocchino a terra per questo vi dico fa un'inversione di marcia verso lo stile arcaico perché nello stile arcaico forse il fatto di essere così grezze queste immagini di coroi e corai li avvicinava un po' alla statuaria ad esempio egizia cioè il fatto che non avessero una particolare vita e che quindi mantenessero un'immagine un po' arcaica di un dio di un idolo ecco qui passando attraverso tutta la ricerca che dall'arcaico si farà con lo stile severo con il preclassico del discobolo di Mirone anche osservando lo stesso suo rivale Policleto anche se se ne distaccherà in quanto lo stile di Fidi è uno stile molto libero da regole e norme è automatico che in quella che è l'idealizzazione dell'immagine ci stia anche la norma ma è automatico come uno che fa un disegno a mano libera e diventa perfetto ecco Fidia incarna quindi all'interno di questa immagine proprio la figura autorevole prorompente e anche imbarazzante userei anche questo termine di un dio la grandezza di Fidia subirà una capitolazione nel passaggio successivo che riguarderà in qualche modo il fallimento di tutto il lavoro che si fece fino all'età di Pericle con quelle che sono le guerre del Peloponneso dove lo stesso popolo che aveva vinto contro i persiani combatterà combatteranno uno con l'altro un po' come fossero fratelli che combattono e noi sappiamo che quando i fratelli combattono la famiglia si sgretola questo percorso lo vedremo passando attraverso Prassitele e Lisippo fino ad arrivare all'età ellenistica dove la statua per miracolo si umanizzerà ecco io vi rimando al prossimo appuntamento di Iulo dove tratteremo il Tempio Greco e passando attraverso il Tempio Greco arriveremo agli ordini greci e quindi devieremo ancora verso la statuaria dell'epoche di cui vi ho appena accennato grazie per la vostra cortesa attenzione vi rimando e spero di riavervi insieme a noi per il prossimo incontro di Iulo l'arte per l'arte ciao da Marino Ferraris ciao ciao